L'influenza stagionale e i virus respiratori stanno colpendo pesantemente l'Abruzzo, posizionandolo tra le regioni con l'incidenza più elevata d'Italia. I dati più recenti, provenienti dal bollettino della sorveglianza Respivirnet dell'Istituto Superiore di Sanità, riferiti alla 52esima settimana, cioè dal 25 al 31 dicembre, indicano un aumento dell'incidenza a 21,76, portando la regione al quarto posto in Italia. Questo valore critico ha superato la soglia di intensità molto alta. La fascia di popolazione più colpita è quella a 0,4 anni, con un'incidenza pari a 62,35 casi per mille assistiti. Seguono le fasce di età 5,14, 26,25, 15,64 con un'incidenza del 21,25 e la popolazione over 65 con un'incidenza intorno al 17. L'Abruzzo si posiziona dietro Campania, Frulli Venezia Giulia e Umbria in termini di intensità influenzale. A livello nazionale l'incidenza di sindromi simil-influenzali è rimasta sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 17,5 casi per mille abitanti. Nonostante questi dati preoccupanti sull'influenza, ci sono invece segnali positivi per quanto riguarda la situazione del Covid-19 in Abruzzo. Nella settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio i nuovi casi sono diminuiti del 35% rispetto alla settimana precedente e del 61% rispetto a due settimane fa. I decessi sono stati quattro, registrando il bilancio settimanale più basso degli ultimi due mesi. Anche i ricoveri sono in calo, mentre gli attualmente positivi al virus sono 10.579. Di questi, 149 sono ricoverati in ospedale e in area medica, mentre 5 si trovano in terapia intensiva. In questo scenario complesso, le autorità sanitarie abruzzesi sono chiamate a gestire con attenzione entrambe le emergenze, garantendo un'adeguata risposta alle sfide sia dell'influenza che del Covid.